della bilancia bellissima luna in acquario è una luna che vi riconcilia con il mondo una luna che vi mette di buon umore è una luna che tira fuori il meglio di voi stessi vi renderete conto di essere amati in questa giornata e soprattutto vi renderete conto anche che la dea vendata alla fortuna ogni tanto viene a darvi una mano per risolvere anche le situazioni più intricate che possono avere a che fare ad esempio con il vostro lavoro ma è l'amore ad essere il protagonista assoluto della giornata andiamo al segno di